La prima cosa che vi vorrei dire è che le immagini che voi vedrete le ho tratte dal nostro Atlante di Roma Antica e voglio rendere omaggio a tutti i giovani che hanno collaborato con noi per realizzarlo e le immagini che vedrete però non sono quelle dell'edizione italiana ma di quella statunitense che verrà, quindi sono delle ricostruzioni aggiornate. Dunque, prima immagine, siamo nel Campo Marzio e si vede con l'asterisco la posizione del Teatro Argentina nell'ambito del Teatro di Pompeo che è il primo teatro in pietra di Roma datato al 55 avanti Cristo, quindi siamo abbastanza tardi nella storia della Repubblica, molto tardi. Il quartiere dei teatri in Campo Marzio e la posizione del Teatro Argentina hanno un chedi simbolico per cui ha molto senso trattare di questo argomento in questo luogo e inoltre vedete che il teatro si trova vicino alla curia di Pompeo che è il luogo dove è stato ucciso Giulio Cesare e che si trova un po' spostato sulla destra rispetto al fronte del teatro e la statua era proprio dove ora c'è un pino. Ma prima del 55 noi abbiamo a Roma solo teatri temporanei. Il Teatro di Roma era fondamente un teatro di traduzione, naturalmente anche di libera traduzione soprattutto e quindi è stato per secoli considerato come un esotismo pericoloso perché non corrispondeva con i costumi tradizionali della città. Quindi se ne ricava, questa immagine è venuta un po' troppo presto ma pazienza, che nessuno dei teatri in pietra sono del tempo dei grandi drammi letterari latini che si datano più o meno fra il 240 e l'80 avanti Cristo. Ma anche i teatri temporanei potevano essere molto lussuosi. Per esempio Scauro ed Ile nel 52 allestisce un teatro il cui proscenio aveva 360 colonne di cui quattro, come poi vedremo, alte più di undici metri e di marmo luculleo dell'isola di Teos in Asia minore. Gli spettacoli avvenivano nei ludi scenici, cioè in occasioni di feste. Duravano nell'anno non più di quattro, otto giorni sparsi nelle varie feste, quando avvenivano più rappresentazioni in una stessa giornata. Si trattava dei ludi romani, plebei, florales, apollinares e megalenses. Si svolgevano nella buona stagione ovviamente trattandosi di teatro all'aperto fra aprile e novembre e vi è sovente un stretto nesso fra il tempio e il culto. Ecco qui possiamo andare oltre, avanti, vediamo il tempio della Magna Mater con il luogo dove probabilmente si allestiva il teatro dei ludi megalenses. Nell'epoca repubblicana del primissimo impero e poi dall'età adrianea avanti si è creato uno spazio maggiore, lo vedete sulla destra, e lì un teatro anche un po' più grande e forse anche con la possibilità di espansione di un portico a sud e vedete lo strettissimo rapporto con il tempio. Si, no, l'ho messo qui. Allora, useremo il portatore. Culto di Venere, Tempio di Pompeo, Culto di Apollo, Teatro di Marcello, abbiamo visto Magna Mater e un teatro che è sempre rimasto provvisorio. A teatro andavano tutti, ma senatori, vestali e cavalieri avevano posti riservati. Oltre ad attori agivano nel teatro funamboli, pugili e gladiatori che spesso distraevano dalle rappresentazioni in modo piuttosto fastidioso. Il drammaturgo, cioè colui che scriveva la pièce, vendeva il manoscritto all'impresario, sovente un attore anziano, in contatto con i magistrati che organizzavano i ludi. Un caso clamoroso è quello di Terenzio che per l'Eunucus ha incassato 8.000 sesterzi, che non è poco. Gli attori, si chiamavano istriones o cantores, erano organizzati in un grex, cioè in un greggio o in una caterva. E oltre ai ludi di Roma, naturalmente, questi attori poi dovevano vivere il resto dell'anno. Io immagino che girovagassero, certamente nel Lazio, certamente. E servivano i privati, che erano i loro patroni, per esempio nelle antecamere dei Triclinia. I Triclini, dove si mangiava seduti, avevano sempre un piccolo spazio davanti e lì avvenivano delle sceneggiate come l'eneide mescolata alla tellana, una specie di cosa assolutamente bastarda, cantata, accompagnata con il flauto, che viene perfettamente descritta nella cena di Trimalcione. E così questi attori campavano oltre quei famosi pochi giorni all'anno in cui avvenivano i ludi. Il palcoscenico, pulpitum prosceni, era di fatto una strada. Una strada davanti a un'architettura scenica che rimaneva invariata. Quindi non c'era bisogno di sipario per cambiamenti scenici. Vi erano cinque porte, tre al centro, che rappresentavano le porte della reggia, nel caso della tragedia, e in caso invece della commedia erano tre porte di tre case private. Le due porte laterali della scena invece servivano per andare a venire o dalla città, da una parte, o dall'altra verso il porto o la campagna. Sulla scena o strada avveniva la tragedia, la commedia e in alcuni teatri passavano anche i trionfi. Guardiamo la prossima immagine. Il percorso del trionfo, vedete, era questo, ma poi dall'età Flavia si passa anche attraverso la scena del teatro di Pompeo e qui vedete si passa attraverso la scena del teatro di Marcello. Mentre nella più bassa orchestra avvenivano i mimmi. Gli attori, naturalmente, in questa realtà fissa dovevano dire chi erano perché erano mascherati, dovevano dire da dove venivano e dovevano dire dove andavano. Portavano ovviamente costumi i greci perché raccontavano tragedie e commedie greche, rappresentavano la commedia nuova greca. E quindi portavano il pallium, che è un mantello tipicamente greco. Ma quando l'argomento era nazionale, allora vestivano la toga pretexta, cioè bordata di porpora, che era la toga dei magistrati. E allora racconti su Romolo, su Bruto, eccetera. Nella commedia si calzava il soccus, una specie di ciabatta, non molto attraente. Mentre invece nella tragedia il coturno. I mimi a piedi nudi. La maschera indicava fondamentalmente l'età e il sesso. Questo recava un vantaggio, che un solo attore poteva recitare più parti, senza essere individuato. E ovviamente alterando le voci parti maschili e parti femminili. Gli attori, oltre al gesto e alla danza, parlavano e cantavano. Ma qui bisogna stare attenti e non pensare che esistesse l'opera. Ora vi era il diverbium, cioè il dialogo parlato, e ora vi era il canticum, il monologo cantato. Il dialogo parlato aveva un solo metro, il senario giambico. Quot'è doc noctis dicam proficisciforas, chistocornato cum cac pompa fai drome. Questo è l'inizio del curculio di Plauto. E sono i senari giambici. Il cantico, invece, non potrò simularlo, perché non sappiamo bene che cosa era. Mia moglie, Marafazio, che è una professoressa di storia del teatro, cerca di spiegarmelo raccontando come dell'attore Talmà, che era un attore di prosa, diciamo, si decantasse il tono della voce. Quindi era un qualche cosa di intermedio fra l'area operistica e il parlato. Viene descritta come declamazione ritmata che indulgeva la tonalità, naturalmente accompagnata dal flauto. Due terzi delle comedie di Plauto sono cantica. La tragedia. Livio Andronico, Ennio Pacuvio, Accio. Ultimissimi autori augustei. Seneca sembra che non venisse recitata a teatro, ma venisse solo declamato. Dopo quest'epoca solo cose vecchie sembrerebbe, come la treus di Accio rappresentato sotto Nerone. Poi la tragedia si spegne nella, o si accende, non è chiaro, nella pantomima, dove un danzatore mascherava, svolgeva temi mitici, Ares Afrodite, anche con aspetti lascivi. La commedia. Nevio, Plauto, Terenzio, Cecilio, poi Titinio, Afranio, Atta. Siamo sempre nel periodo che abbiamo detto. E la commedia poi finisce in farse e comiche. La Tellana, con le maschere di Macco, Buccone, Pappo e Dosseno, si arrivava anche ad esibizioni sessuali nella Tellana e il Mimo, dove l'attore, a viso scoperto e a piedi nudi, svolgeva la sua attività che consisteva sovente in caso di attrici nel denudarsi. E poi vi erano acroboti e i temi prediletti erano quelli ancora di oggi, adulterio e omosessualità. La curia di Pompeo e il teatro di Balbo io non ne parlerò perché ne parlerà il soprintendente Parisi Presice. Avanti. Vorrei solo... Ecco, qui è il rapporto, vedete? No, allora scusate, non trovo il teatro di Pompeo, andate un po' indietro. Eccolo, benissimo. Ecco il teatro di Pompeo, vi faccio solo vedere la posizione dell'Argentina rispetto al teatro di Pompeo e la curia di Pompeo che così noi abbiamo ricostruito ed è quindi ai piedi della statua di Pompeo che è stato ucciso Cesare. Avanti. Sul teatro di Balbo nulla dico, avanti, nulla dico, avanti e invece mi vorrei soffermare sul mio amatissimo teatro di Marcello. Vedete che l'asse del teatro va a finire sull'ingresso del Tempio di Apollo. Quindi qui si svolgevano scene teatrali in teatri provvisori e poi finalmente nel 13, stesso anno del teatro di Balbo, abbiamo questo meraviglioso teatro. Avanti. Questa è la tavola dell'Atlante. Marcello, come sapete, era il figlio della sorella di Augusto, Ottavia, e aveva sposato la spregiudicata Giulia, era stato destinata alla successione muore a Baia nel 23 a 19 anni e di qui poi i meravigliosi versi dell'Eneide sulla sua figura. Qui ci sono tutte le parti con le terminologie del teatro che però sono un po' noiose e le saltiamo. Andiamo avanti per vedere come era questo teatro, cioè che era stato tutto inglobato da un palazzo. Avanti. Lo si vede ancora nella sua situazione originaria in questa fotografia del 1890. E poi nel restauro mussoliniano avanti in cui noi abbiamo questa assurdità di vedere sotto un teatro romano e sopra appollaiato un palazzo del Rinascimento che invece prima ovviamente occupava tutta la struttura. Avanti. Ecco l'ordine del pian terreno. Avanti. L'orico. Ecco l'ordine ionico del piano superiore. Avanti. Il tutto. è ecco le maschere che decoravano le chiave di volta degli archi. E ecco avanti la palizzata che fondava tutto il teatro e che è stata rappresentata da Pirenesi. e infine avanti ecco il nostro teatro sempre con i termini che potete vedere e con il teatro Ledes a Polinis retrostante. Ci troviamo quindi fra Ledes a Polinis e il Tevere qui è il Tevere questa linea blu è il Tevere. Come abbiamo ricostruito questo teatro? Allora andiamo avanti ecco questo è il proscenio con queste famose colonne di marmo di Apuleo di cui conosciamo esattamente la misura che corrisponde a metri 11 e 23 per ricostruire l'insieme ci siamo ispirati alla scena straordinariamente conservata del più o meno coevo teatro di Orange della Gallia Meridionale. Avanti queste colonne erano servite a decorare la scena del teatro provvisorio di Scauro nel 58 poi erano finite nel suo atrio e bisogna ricordare che non è tutta la colonna 11 metri ma cioè è la colonna senza capitello naturalmente quindi è una cosa veramente molto impressionante quindi questa è l'atro della casa di Scauro poi Augusto fa portare queste colonne per creare il teatro di Marcello e come vedete una due tre porte più queste laterali la quarta e la quinta che qui non si vede avanti ai lati della scena erano delle turres che abbiamo concepito in analogia sempre con il teatro di Orange e poi c'era dietro alla scena il post scenium con la porticus allora ecco questo è già un altro miracolo è il teatro di Orange che è perfettamente conservato anche nella parte retrostante traducendo tutto questo ecco la porticus ecco il post scenium come l'abbiamo immaginato queste antenne servivano per reggere il velarium avanti poi naturalmente c'è il problema di come ricostruire questa porticus e qui ci siamo ispirati alla portico di Ottavia che ci ha dato molti elementi utili per ricostruire questa parte centrale avanti e poi delle basiliche che si trovavano ai lati del teatro abbiamo questi elementi conservati che le vedete ancora oggi passando per quella che si chiamava via del mare e che rappresenta questo lato qui della basilica avanti e poi avete naturalmente la forma urbis che ci ha aiutato ciò che è verde qui è la forma urbis come ci è rimasta sia direttamente che attraverso un codice vaticano latino e quindi tutto questo messo insieme e distinto per colori ci ha aiutato nella ricomposizione di questo teatro avanti e poi ci sono sul retro questi due tempietti uno forse attribuibile a Pietas perché sappiamo che è un culto che è stato eliminato per creare il teatro e sull'altro invece non ho delle idee molto precise comunque qui continuate a vedere la strada che correva lungo il Tevere e qui l'Edes a Pollinis questa è l'ultima diapositiva perché non voglio rubare tempo agli altri colleghi e vorrei però chiedere una cosa al soprintendente prima di tutto fare una lode alla soprintendenza capitolina che se la merita veramente perché è senza altro quella che negli ultimi anni è stata la più vivace basta pensare allo spettacolo al foro d'augusto notturno che è stata una cosa veramente meravigliosa straordinaria e vorrei chiedere questo sarebbe possibile scavare sotto la strada la curia di Pompeo in modo da potervi accedere dagli scavi sarebbe veramente una cosa meravigliosa e quindi è un invito che io faccio e la seconda cosa è questa la stessa vostra presenza qui sta a indicare quanto tutti voi abbiate desiderio di racconti di questa città ma non è che si può sempre vivere a teatro è un'assurdità che a Roma manchino due musei fondamentali uno il museo della città che è stato proposto da più amministrazioni ma mai realizzato al fondo del circo massimo e forse anche un museo dell'Italia come esiste un museo della Germania a Berlino che presenti l'intera penisola ma questi sono sogni che probabilmente tali resteranno grazie allora plauto leggerò brani dallo pseudolo che è sicuramente una tra le commedie più famose e più riuscite di Plauto, è la classica vicenda della separazione degli amanti e della loro riunione finale. Pseudolo, il prototipo stesso del servo, astuto e spregiudicato, campione di una malizia gioiosa e fiera di se stessa e saranno proprio la scaltrezza e gli inesauribili e incalzanti intrighi tessuti da Pseudolo a far trionfare la giovinezza e l'amore. Ora è sempre molto difficile estrapolare per cui con voi facciamo dei balzi dentro questa, anche per ragioni di tempo, dentro questa commedia. E allora partiamo dall'atto primo, scena prima, Pseudolo il servo, Calidoro il giovane padrone. Pseudolo, se dal tuo silenzio potessi apprendere, padrone, quali affanni così penosamente t'affliggono, di buon grado avrei risparmiato un fastidio a due persone, a me quello di interrogarti, a te quello di rispondermi. Ma poiché ciò non è possibile, la necessità mi costringe a rivolgerti delle domande. Rispondimi. Come va che da molti giorni a questa parte, con un viso da funerale, ti porti in giro codeste tavolette e le bagni di lacrime, senza mettere alcuno a parte dei tuoi pensieri? Parla. Fa che io condivida con te il segreto che ignoro, Calidoro. Sono infelice, terribilmente infelice, Pseudolo, Pseudolo. Che Giove te ne scampi e liberi, Calidoro. In questa faccenda Giove non ha niente a che vedere, è sotto il dominio di Venere che io soffro, non sotto quello di Giove, Pseudolo. È lecito che io sappia di che si tratta? Fino ad oggi mi hai tenuto come il più intimo confidente dei tuoi pensieri. Fammi sapere cosa ti succede, ti aiuterò coi miei mezzi, coi miei servigi, con un buon consiglio. Calidoro, dandogli le tavolette. Prendi queste tavolette, ne trarrai da te il resoconto delle pene e degli affanni che mi consumano. Pseudolo, sarai accontentato. Dopo aver dato un'occhiata alle tavolette, ma che è questo? Di grazia. Calidoro, che c'è? Pseudolo, a mio parere queste lettere vogliono figliare, proprio montano l'una sull'altra. Calidoro, eccoti già gli scherzi, uno dei tuoi soliti scherzi. Pseudolo, per Polluce. Credo che a meno che non lo lega la Sibilla, dico nessun altro sia in grado di decifrarle. Calidoro, perché parli irriverentemente di queste graziose lettere, di queste graziose tavolette scritte da una mano graziosa? Pseudolo, per Ercole. Han forse delle mani le galline? Di grazia. Ma perché bisogna che sia stata una gallina a tracciare questi sgorbi? Calidoro, mi riesci odioso. Leggi oppure rendimi le tavolette. Pseudolo, ma no. Le leggerò da cima a fondo. Fa attenzione. Leggendo. Fenicia al suo amante Calidoro, con la mediazione di questa cera, di questo spago e di queste lettere. Invia il suo saluto e gli chiede salvezza piangendo con l'animo, col cuore e con la mente che vacillano. Baglione, mi ha venduta per venti mine a uno straniero, un militare macedone. Amore mio. Prima di partire di qui, il militare ha versato come anticipo quindici mine. Ora non vi sono che quelle cinque mine che mi trattengono qui. Per questo motivo il militare ha lasciato qui un contrassegno, il suo ritratto impresso sulla cera col suo anello. Perché Baglione mi consegni a colui che gliene porterà la copia. La data della consegna è stata fissata per il giorno avanti le Dionisiache. Queste sono le feste di cui parlava il professore. Calidoro, e queste cominciano domani. La mia rovina è prossima se non trovo in te un aiuto. Pseudolo, lasciami finire. Calidoro, fa pure, fa pure, ascoltandoti, ho l'illusione di parlare con lei. Leggi. Ora tu mi mescoli assieme il dolce e l'amaro. Pseudolo, leggendo. Adesso le nostre tenerezze, le nostre dimestichezze, le nostre cari, abitudini, gli spassi, i sollazzi, i nostri discorsi, i dolci baci, gli intimi amplessi dei nostri corpi innamorati, i piccoli morsi impressi sui teneri labruzzi, le lievi carezze prodigate a un turgido seno. Tutti questi piaceri stanno per esserci tolti, strappati, distrutti, a me come a te, se non troviamo io in te o tu in me un mezzo di salvezza. Mi sono preoccupata di farti sapere tutto ciò che io sapevo. Ora vedrò alla prova dei fatti fino a che punto ami e fino a che punto fingi a Dio. Calidoro, è una lettera commovente. Pseudolo, pseudolo, commoventissima. Calidoro, perché non piangi? Pseudolo, ho gli occhi fatti depomici. Non mi riesce proprio di far spuntare loro una sola lacrima. Calidoro, come mai? Pseudolo, la nostra famiglia è sempre stata quella degli occhi secchi. Calidoro, non te la senti di darmi il minimo aiuto? Pseudolo, che potrei fare per te? Calidoro, ahimè, pseudolo, ahimè. Per Ercole, se si tratta di questo non badare a risparmi, te ne darò. Calidoro, sono uno sventurato, non riesco a trovare da nessuna parte il denaro in prestito. Pseudolo, ahimè. Calidoro, e in casa non c'è neanche una dracma. Ahimè. Calidoro, e quello sta per portarsela via domani. Pseudolo, ahimè. Ma è questo il modo d'aiutarmi? Pseudolo, io ti dico quel che ho. Di questa roba ne ho una riserva inesauribile in casa nostra. Calidoro, è finita per me oggi. Ma non puoi prestarmi una sola dracma, che ti restituirò domani? Pseudolo, per Ercole. Stenterei ad arrivarci, io credo, perfino se dessi impegno me stesso. Ma cosa vuoi farne di quella dracma? Calidoro, voglio comprarmi una corda. Pseudolo, a che scopo? Calidoro, per impiccarmi. Pseudolo, scusa, allora chi mi restituirà la dracma, se te la darò? Eh? O forse è proprio per questo che vuoi impiccarti, per fregarmi la dracma che ti ho dato? Calidoro, no, non posso assolutamente vivere se mi separano da lei, se me la portano via. Pseudolo, ma perché piangi all'occo? Tu vivrai. Calidoro, perché non dovrei piangere quando non dispongo nemmeno di una dracma d'argento, ne spero di trovare un obolo al mondo? Pseudolo, non temere, non t'abbandonerò nei tuoi amori. Spero che oggi con le buone o con le cattive ti scoverò da qualche parte un aiuto in denaro. Da dove salterà fuori? Da dove? Non saprei dirlo. So soltanto che salterà fuori. Calidoro, voglia il cielo che i fatti corrispondano le tue parole. Pseudolo, ma tu lo sai per Ercole che razza di scompigli sono solito provocare quando mi metto in azione. Calidoro, ogni speranza della mia vita è attualmente riposta in te. Pseudolo, ti basta se oggi faccio sì che questa fanciulla indica la casa di Baglione sia tua o se ti procuro le ventimine? Calidoro, mi basta se ciò accadrà. Pseudolo, chiedimi ventimine. No, perché ti sia chiaro che manterrò la promessa che ti ho fatto? Chiedimele per Ercole, ti scongiuro. Muoio dalla voglia di prendere questo impegno. Calidoro, mi darai oggi ventimine d'argento? Pseudolo, te le darò. Adesso non seccarmi più. Calidoro, taci, ti scongiuro per Ercole. Pseudolo, cosa succede? Calidoro, la porta di Baglione ha scricchiolato. Pseudolo, preferirei sentire scricchiolar le sue gambe. Calidoro, è giusto, lui sta uscendo con lo spergiuro matricolato. Si ritira in disparte assieme al servo. Si fa un salto e siamo arrivati alla scena quarta. Pseudolo solo. Adesso che egli se n'è andato, sei qua solo, Pseudolo. Ebbene, cosa intendi fare? Dopo aver generosamente elargito promesse al tuo padroncino? Su, su che cosa si fondono quelle promesse? Non hai niente di pronto. Neppure l'ombra di un piano sicuro, né un tantino di denaro. Ne ho un'idea di quello che devo fare. Non sai da che punto cominciare a ordire la tua tela, ne sai con certezza fin dove finirai di tesserla. Sì, ma come il poeta, no? Prese le sue tavolette, cerca ciò che non esiste in nessuna parte del mondo e tuttavia lo trova riuscendo a rendere verosimile quel che è menzogna? Così farò io. No, diverrò poeta. E le ventimine che attualmente non esistono in nessuna parte del mondo, finirò col trovarle. Altro salto, atto secondo, scena prima, sempre Pseudo solo. Per Giove! Ma come mi riesce bene felicemente tutto quello che faccio? Capiti? Nella mia testa è riposto un progetto che non lascia luogo a dubbi o a timori. Eh sì, sarebbe una sciocchezza affidare una grande impresa a un cuore pavido, perché ogni cosa acquista il suo valore a seconda del modo in cui la fai, a seconda dell'importanza che tu le attribuisci. Quanto a me, ho preparato prima nella mia testa le mie schiere, capito? Ho disposto su due file, su tre file, i miei inganni e le mie perfidie, in modo che ovunque m'abbia a scontrare col nemico io possa facilmente vincerlo, io possa facilmente spogliare i miei avversari grazie alle mie perfidie. Ora, questo comune nemico mio e di tutti voi, baglione, no? Io lo sbalestrerò per bene. Prestate attenzione soltanto. Voglio investire questa fortezza, indica la casa di Baglione, perché oggi si è presa e condurrò qua le mie legioni. Se la espugno, e io renderò facile questa impresa ai miei concittadini, senza portempo in mezzo condurrò subito il mio esercito contro quest'altra vecchia fortezza, indica la casa di Simone. Dunque Baglione è quello che c'ha la ragazza, Simone è il padre di Calidoro, il suo padrone più piccolo, il ragazzo innamorato della ragazza. Poi mi caricherò, mi rimpinzerò di bottino e assieme ai miei compratori, perché sappiano che io sono nato per gettare il terrore e lo scompiglio nei miei avversari. Da tale razza sono nato. Bisogna che io compia grandi imprese, che lasciano di me una fama chiara e duratura. Ma che sto vedendo? Chi è questo sconosciuto che si offre al mio sguardo? Sono curioso di sapere cosa vuole con quella spada. Starò in agguato e spierò le sue mosse, si trae in disparte. Altro zompo pazzesco e arriviamo alla fine, quando tutti i suoi intrighi sono riusciti alla perfezione, Pseudolo si è ubriacato in una maniera sconvolgente e arriva finalmente alla casa di Simone, che è il padre di Calidoro. Scena seconda, Simone, Pseudolo, Simone uscendo di casa, la voce di un furfantaccio mi chiama fuori, ma che roba è questa? Come? Cosa vedo? Poi Simone è un tipo tutto preciso di questi, moralistiche, contro i giovani, perché sbevazzano, insomma, molto tipo così. Pseudolo, il tuo pseudolo, ubriaco, con una corona in testa. Simone, questa sì che mancanza di ritegno per Ercole, ma guarda che posa! Forse che per la mia presenza prova un tantino di soggezione? Tra sé. Sto pensando se debba rivolgermi a lui con severità o con dolcezza, ma quel che io porto, mostra una borsa di denaro, mi impedisce di usare la violenza se io vi ripongo ancora qualche speranza. Pseudolo, facendo un inchino a Simone, il breccone si presenta al galantuomo. Simone, gli dèi ti proteggano, Pseudolo, respingendo Pseudolo, che gli ha ruttato in faccia. Ma vai malora! Pseudolo, perché mi devi uno spintone? Simone, e tu, maledizione, perché mi rutti in faccia? Ubriaco come sei! Pseudolo, aggrappandosi a Simone, fa piano, ti prego, sostienimi, sta attento che io non cada, non vedi che sono fradicio. Simone, che sfacciataggine codesta andare in giro in questo stato, in pieno giorno, con una corona in testa, ubriaco. Pseudolo, così mi piace. Simone, che ti piace? Pseudolo, fa un altro rutto. No, continui a ruttarmi in faccia. Pseudolo, ruttare è una delizia per me, lasciami fare. Simone, sono stato a sbevazzare con tuo figlio. Ma, Simone, oh, che bella botta ha preso, Baglione. Simone, eh? Come le ho mantenute le promesse che ti ho fatto. Simone, sei un furfantaccio. Pseudolo, la colpa è della ragazza. Se ne sta a tavola con tuo figlio, libera. Simone, so tutto quello che hai fatto per filo e per segno. Pseudolo, che aspetti dunque a darmi il denaro? Simone, avevano fatto un patto, per cui l'ha vinto, Pseudolo. Simone dice, è nel tuo diritto chiedermelo, lo ammetto, tieni. Gli porge la borsa, evidentemente allora i patti funzionavano, oggi non funzionano più. No? Ha perso dunque dai soldi. Pseudolo, dicevi che non me l'avresti dato, non di meno me lo dai. Pseudolo, carica quest'uomo, indica se stesso e seguimi per di qua. Simone, al pubblico. Io dovrei caricare costui? Pseudolo, mi caricherai, lo so bene. Simone, ma che devo fare a quest'uomo? Non gli basta di portarmi via il denaro, deve anche pigliarmi in giro. Pseudolo, guai ai vinti. Simone, volta le spalle dunque. Pseudolo, ecco, china la schiena e il vecchio gli mette sulle spalle la borsa del denaro. Simone, non l'avrei immaginato che sarei venuto a supplicare te. Si mette addirittura ai suoi piedi. Oh, oh, Pseudolo, piantala. Simone, io soffro, Pseudolo. Se non soffrissi tu, soffrirei io. Simone, che tu toglierai questo denaro al tuo padrone, Pseudolo mio. Pseudolo, con tutto il cuore, con tutta l'anima. Simone, andiamo, non vuoi proprio farmi grazie ad una parte di questa somma. Pseudolo, no, dirai che sono un avaro, ma con questo, indica la borsa, non ti arricchirai mai di un solo obolo. Tu non avresti avuto pietà della mia schiena se oggi non fossi riuscito nel mio intento. Simone, mi si offrirà bene l'occasione di vendicarmi di te se io vivrò, Pseudolo. Che? Oh, me minacci? Guarda che c'è un buon groppone. Simone, sta bene? Fa per andarsene. Pseudolo, e su, dai, torna indietro. Simone, perché devo tornare? Pseudolo, ma via, ma torna indietro. Non sarai deluso. Simone, torno. Pseudolo, ma vieni a bere con me, no? Simone, io dovrei, Pseudolo, fa quel che ti dico. Se vieni, avrai la metà di questa somma, o anche di più. Te lo giuro. Simone, vengo, conducimi dove vuoi. Pseudolo, è bene? Sei ancora in collera con me? O con tuo figlio per ciò che è accaduto? Simone? Simone, neanche per sogno. Pseudolo, vieni per di qua. Simone, ti seguo. Perché non inviti gli spettatori? Pseudo, per Ercole. Loro non usano invitare me, né io uso invitare loro. agli spettatori. Ma se vi degnate di applaudire e di dare la vostra approvazione a questa compagnia e alla commedia, vi inviterò per domani. Grazie. Grazie. Applausi. Grazie. Applausi. Oggi parliamo di teatri, di teatri antichi di Roma, ma voglio dire subito che penso che ognuno di noi, a prescindere dalla formazione o dalle passioni, potrebbe raccontarlo in modo diverso. Lo dico perché quando rifletto su quello che è il compito della tutela di una città come Roma, che voi sapete è unica al mondo, penso che il compito principale della tutela è proprio la preservazione di tutti i racconti possibili. È questo che determina le modalità, i metodi, la volontà stessa di conservare il patrimonio di Roma. Vediamo la prima diapositiva dove sono collocati. Allora, vediamo se so far funzionare. Sì, questo è il teatro di Pompei, lo vediamo nel modello realizzato da Italo Gismondi al Museo della Civiltà Romana. Qui vedete il teatro di Balbo con la cripta e qui vedete il teatro di Marcello. Sono tutti e tre naturalmente realizzati nell'area del Campo Marzio, cioè in un'area lontana dal centro della vita politica della città. E questo proprio perché i teatri dovevano essere fuori dai percorsi ufficiali della vita politica. E poi la vicinanza con il Tevere naturalmente che vedete qui, con l'isola tiberina, aveva lo scopo di rendere possibile il raggiungimento di questi grandi edifici anche da fuori della città. Quindi erano luoghi di spettacolo dove la vita riguardava anche chi non abitava dentro la città. Cominciamo con il Teatro di Pompeo. Vediamo la prossima diapositiva. Vi ho messo due immagini, due ritratti di Pompeo, sono due dei pochissimi ritratti, ne conosciamo soltanto altri due, e come vedete hanno delle caratteristiche molto diverse l'una dall'altro. Quello di destra è un ritratto conservato a Venezia, al Museo archeologico di Venezia, diciamo è più realistico, quello di sinistra è più classicistico, ma quello che è interessante è che nelle caratteristiche del volto compare un elemento iconografico che le fonti ricordano come tipico del ritratto di Pompeo, cioè l'ispirazione all'immagine di Alessandro Magno. Quella ciocca, ritorta, che è al centro della fronte in entrambi i ritratti, pur essendo di tipo diverso, e il richiamo alla cosiddetta anastolè che le fonti ricordano caratterizzare insieme allo sguardo languido caratterizzato dalle palpebre molto gonfie e sporgenti il volto di Alessandro Magno. Vediamo la prossima. Questo è semplicemente una pittura di Camuccini che, diciamo, ricorda l'episodio che più di ogni altro, diciamo, nella memoria collettiva connette Cesare con Pompeo. Pompeo sconfitto a farsalo da Giulio Cesare e poi subisce la sorte di essere ucciso esattamente nella curia di Pompeo ai piedi della statua che era lì eretta. Vediamo la prossima. Due immagini di Giulio Cesare, uno nella moneta più importante che ci ha permesso di identificare il volto del dittatore, moneta di Marco Mettius, coniata esattamente poche settimane prima di essere ucciso, cioè nel gennaio del 44. Vedete che la scritta ci ricorda Cesare dictator quartum, cioè per la quarta volta. Il 48 fu la prima, il 44 fu la quarta. E l'altro è uno dei pochissimi, ancora una volta, ritratti di Giulio Cesare che si conserva, che si trova al Museo di Antichità di Torino, ma è stato rinvenuto a Tuscolo ed è stato veramente, diciamo, l'esemplare che ha consentito di riconoscere il volto del dittatore. Andiamo alla prossima. E queste sono due statue, solo per memoria, una palazzo spada, un'altra, un palazzo nel nord, che sono state a volte ricondotte all'immagine di Pompeo, ma che in realtà oggi la maggior parte degli studiosi ritengono non essere identificabili con Pompeo. Il 29 settembre del 55 a.C. a Roma è festa grande. Il personaggio più potente del momento, il vincitore degli schiavi ribelli di Spartaco, il trionfatore sui pirati del Mediterraneo, su siriani, armeni, palestinesi, l'uomo che ha portato le legioni romane fino al Mar Caspio e ha triplicato l'entrata dello Stato, ossia il console Pompeo, detto da Silla il Grande, Pompeo Magno, festeggia il suo anniversario. Per l'occasione Pompeo regala ai Romani un teatro, il primo teatro in muratura della città, un'opera imponente. Ha cambiato certamente lo skyline del paesaggio in quell'area del Campo Marzio. Le gradinate sono di eccezionale ampiezza e possono ospitare fino a 40.000 spettatori. I numeri naturalmente sono sempre discutibili. Ci sono alcuni studiosi che ritengono un numero più basso, ma comunque era il numero più grande che si fosse mai concepito per ospitare in una struttura permanente di un teatro gli spettatori a Roma. Il diametro della cavea è di 150 metri, vediamo la prossima. È un teatro-tempio perché al centro della cavea sporge il podio dell'altissimo tempio dedicato a Venere Vincitrice. Dietro il palcoscenico lo sconfinato colonnato di un portico, 180 x 135 metri, arricchito di 14 enormi statue delle nazioni da lui sottomesse. Circonda un'area con fontane, ninfei e due folti boschi di platani. Il porticato, sotto il quale gli spettatori potranno riparare in caso di pioggia, termina con un grande ambiente posto proprio davanti ai quattro antichi templi dell'area sacra, quella di Largo Argentina. È la curia di Pompeo per le periodiche riunioni del Senato ed è dominata da una sua grande statua che lo ritrae con il globo nella mano destra. Ma questo lo sappiamo dalle fonti ed è il motivo per cui alcuni in passato ritenevano che la statua della Galleria Spada fosse naturalmente la sua immagine. Quindi siamo esattamente in questo punto qui con la curia. Come ci riferiscono gli storici Livio e Tacito, la costruzione di teatri stabili nell'urbe è tassativamente vietata. Nel 154 a.C. il Senato aveva fatto abbattere un teatro in muratura, virgolette, in quanto inutile e dannoso per i costumi della città. Per lungo tempo gli spettacoli devono svolgersi su palcoscenici di legno, smontati subito dopo le rappresentazioni. Sono proibiti anche i sedili e gli spettatori seguono le rappresentazioni in piedi. L'ostilità della classe aristocratica non è del tutto ingiustificata. Gli spettacoli teatrali sono pieni di oscenità, di allusioni politiche e il pubblico si sente legittimato dalla forza del numero a manifestare con grida, con fischi, a battere con i piedi. Insomma, i teatri sono causa di degenerazione e di potenziali sommosse, ritenevano i senatori. Per aggirare il divieto, Pompeo deve escogitare uno stratagemma. Fa innalzare dunque un grandissimo tempio, le cui scale di accesso edificate a forma di cavea altro non sono che le gradinate del futuro teatro. La dichiarata funzione sacra dell'edificio lo rende perfettamente legittimo. Vediamo la prossima. Una delle primissime ricostruzioni naturalmente false del teatro. Vediamo ancora la prossima. Luigi Canina La dichiarata funzione sacra dell'edificio lo rende perfettamente legittimo, ma sui cradini di quell'enorme scalinata i cittadini cominciano a restare sempre più a lungo seduti, voltando le spalle al tempio, proprio come fanno molti oggi sulla scalinata di Piazza di Spagna. E alla fine, davanti a loro, vedranno comparire il palcoscenico ligno di un grandioso teatro. Di quello che fu il più grande teatro di Roma antica restano le tracce nelle fonti letterarie. Cicerone è presente alla fastosa inaugurazione, ma la descrive in termini critici a un suo amico. La festa dura cinque giorni. Nel teatro si rappresentano commedie campane e tragedie greche, nelle quali, tra l'altro, vengono mostrati 600 muli, 3.000 recipienti per il vino, caroselli di soldati nelle più svariate uniformi di fanteria e cavalleria. Tutte cose che possono incantare una massa ignorante, ma che lasciano indifferente e annoiato l'avvocato di Tuscolo, Cicerone. Ovidio ricorda lente passeggiate al riparo della calura estiva, sotto l'ombra di Pompeo, alludendo ai boschi di platani circondati dal porticato, che consiglia a uomini e donne desiderosi di incontri. Marziale racconta di un certo Selio, un poveretto per il quale non esiste fortuna più grande di quella di essere invitato alla cena di un ricco. Selio, dunque, per evitare la magra cena di casa propria, va disperatamente alla ricerca di qualcuno che lo inviti. Entra nelle terme, dove si lava continuamente due, tre, quattro volte, assiste di mala voglia ai culti egizi, attraversa gli ampi recinti dove la gente va a votare e si avventura sotto i portici di Pompeo, ma senza alcun esito. Tacito, invece, riferisce che dopo più di un secolo dalla costruzione, Nerone invita al teatro di Pompeo illustri ospiti barbari per strabiliarli con la grandiosità del monumento. Proprio sotto la statua di Pompeo Magno, per una beffa del destino, l'abbiamo visto, cadrà pugnalato il 15 marzo del 44 Giulio Cesare, il suo più acerrimo nemico. Svetonio ci dice che Augusto farà murare la curia di Pompeo, il luogo dell'infame uccisione del suo padre adottivo. Gli autori cristiani condannano la costruzione e Tertulliano definisce l'edificio, virgolette, reggia di tutti gli scandali. Ma il teatro di Pompeo è restaurato ancora nel VI secolo da Teodorico, un imperatore barbarico fortemente romanizzato. Il complesso monumentale di Pompeo ha lasciato anche tracce archeologiche. Vediamo la prossima. Questa è la ricostruzione di uno dei pensionnaires che si esercitavano sui monumenti di Roma per imparare il disegno e per imparare l'architettura antica. Andiamo avanti. Questi sono i frammenti della forma urbis che hanno aiutato nella ricostruzione della pianta del Tempio. Il complesso monumentale di Pompeo ha lasciato tracce archeologiche. Del Tempio di Venere sono visibili i resti di parte del podio nelle cantine del palazzo Pio Righetti, ex palazzo Orsini. Quell'alto edificio che si affaccia su piazza Campo dei Fiori, costruito proprio sulle sostruzioni del Tempio. della scena che in gran parte occupava l'area dove ora è la chiesa di Sant'Andrea della Valle, è stata trovata a notevole profondità una prima parte è stata trovata a notevole profondità una parte del primo tratto della scena, dicevo, sotto la chiesa di Santa Barbara, in largo dei Librai. Della cavea sorprende vedere ancora il suo andamento perfettamente individuabile nell'impressionante continuità urbanistica degli edifici moderni. La curva interna è in quel semicerchio descritto dalle case di piazza dei Satiri e di via di Grotta Pinta, mentre quella esterna si può osservare nell'andamento di via dei Biscione e di piazza Pollaiola. Resti dell'esostruzione dei cunei di accesso alle gradinate sono visibili invece nei negozi di via dei Giubonari, nelle cantine degli stabili di piazza Grotta Pinta, di piazza del Paradiso, di via del Biscione. Notevoli infine i resti visibili sotto i ristoranti da Pancrazio, di via del Biscione, da Costanza in piazza del Paradiso. Insomma la denominazione Grotta Pinta allude probabilmente ai resti sotterranei degli ambienti pompeiani trovati nella zona. Vediamo alcune diapositive. Questi sono i resti trovati all'interno di un solarium da poco restaurato e ricostruito. Vediamo ancora i rinvenimenti di alcuni elementi decorativi. Questa è la statua di Ercole che si trova ai Musei Vaticani, detto appunto Ercole Righetti, ancora. Questa è la parete curvilinea di via di Grotta Pinta e uno dei due satiri rinvenuti nella piazza che oggi si chiama Piazza dei Satiri e che sono conservati nei Musei Capitolini e che certamente appartenevano alla decorazione della front scene del teatro. Vediamo avanti. Ecco, vedete, questa è via di Grotta Pinta che riproduce l'andamento curvilineo della parte bassa della cavea. Mentre sul lato di Campo dei Fiori, vediamo ancora la prossima. Ecco, questo è il palazzo Pio Righetti, uno dei palazzi forse più belli. Io lo considero uno dei palazzi più belli, dove peraltro ha vissuto un personaggio importantissimo del XVI secolo, che era il cardinale Rodolfo Pio da Carpi, un cardinale che è stato nunzio apostolico in Francia per molti anni, soprattutto sotto il pontificato di Paolo III, e che ha partecipato a quattro conclavi senza mai riuscire a diventare Papa, pur essendo tra i più ammirati, tra i più apprezzati i cardinali del tempo, proprio per l'opposizione del re di Francia. Ed è, naturalmente, il possessore di una vigna molto importante, forse quella dove per primo è stato organizzato una sorta di museo all'aperto, con le collezioni che riuscì a raccogliere, e intorno a lui si riuniva un cenacolo, diciamo così, di studiosi, Stefano Piglio e tanti altri, nel XVI secolo, per discutere la storia di Roma sulla base dei testi che man mano venivano pubblicati, i testi rinvenuti nei codici. Ed è lui, peraltro, il donatore del ritratto di Brutto Capitolino nelle collezioni capitoline al momento della morte nel 1564, oltre ad essere il donatore del famoso codice Virgilio Vaticano che conserva, forse il codice più bello, le opere del poeta Virgilio. Andiamo avanti. Eccone una raffigurazione nella incisione del vasi. Voi immaginate qui, ovviamente, il cinema farnese. Siamo quindi a Campo dei Fiori. Vediamo la prossima. Ecco, qui vedete una ricostruzione dovuta a Monteroso Ceca che ha tentato di ricondurre, diciamo, ad un disegno grafico unitario tutti quei resti che oggi sono visibili nelle strade e negli edifici intorno all'area del Teatro di Pompeo. Qui, ovviamente, vedete Campo dei Fiori. Ancora, e questa è una visione ancora più da lontano, riconoscete Palazzo Farnese, naturalmente, Palazzo Spada e Campo dei Fiori qui davanti, in modo da rendersi conto di che cosa è conservato nelle cantine e nel sottosuolo e qualche volta nelle pareti dell'elevato di alcuni edifici. Via di Grotta Pinta, naturalmente, corrisponde alla parte bassa della cavia. E questa è Sant'Andrea della Valle, dove appunto sono stati rinvenuti al di sotto alcuni resti della France Schene. Ancora la prossima. Bene, e questo è un modello ricostruttivo. Del porticato, che delimitava un'area compresa tra le attuali vie dei Chiodaroli di Sant'Anna, di Torre Argentina, del Sudario, Piazza Vidoni e Largo dei Chiavari, partendo dai templi repubblicani dell'attuale Largo Argentina, non resta nulla in superficie, se non il tracciato che si può perfettamente indovinare nella fotografia aerea. Sotto il Teatro Argentina, dove noi siamo, c'è una colonna granitica del porticato e resti delle fontanelle che erano nei giardini boscosi del quadriportico. Due statue di Satiri, ora al Museo Capitolino, dicevo prima, si sono trovate nella piazza che dai Satiri prende nome. Altre due statue, alte 4 metri, sono ora rispettivamente al Louvre di Parigi e ai Musei Vaticani, che ospitano anche il gigantesco Ercole in bronzo Righetti, proveniente dal complesso Pompeiano. Della Curia resta un grandioso basamento in opera quadrata di Tufo, visibile alle spalle dei templi B e C di Largo Argentina. Osservando questo reperto dal parapetto, situato davanti al moderno teatro, possiamo localizzare con grande approssimazione il luogo preciso in cui è stato assassinato Giulio Cesare. L'ultimo tragitto percorso da Cesare, vivo nella mattina del 15 marzo del 44, consiste nel breve spazio urbano tra la Domus Pubblica, luogo della sua dimora, e la Curia Pompeiana. Il luogo dell'assassinio è parzialmente descritto nelle testimonianze letterarie a nostra disposizione. Tuttavia, sono i resti del complesso posti in luce dalle indagini archeologiche ad avere consegnato un'immagine definitiva dell'assetto monumentale. Partendo dalle fonti letterarie, Nicola Damasceno, Nicola di Damasco, ricorda la Curia alludendo a un ambiente chiuso che definisce genericamente come una stoa, come un portico. non precisa però la pianta dell'edificio. In asse con la porta d'accesso della sala era l'altare sul quale Cesare sacrificò prima di raggiungere i senatori, i quali dovevano prendere posto sugli scranni alloggiati all'interno dell'ambiente poco più dettagliata e la testimonianza invece di Plutarco che colloca la Curia, provvista di un abside, su un lato che non specifica della Porticus Pompeiana. Naturalmente dalla lettura della testimonianza risulta che la sala doveva essere libera dal momento che Bruto avanzò senza ostacoli all'interno di essa e che di conseguenza i gradini sui quali insistevano gli scranni dei senatori erano situati in file parallele lungo le pareti dell'edificio. Nell'abside ricavata su uno dei lati lunghi della costruzione, abbiamo visto, era collocata la statua di Pompeo ai piedi della quale fu assassinato Cesare. Appiano e Cassio Dione, due storici del periodo successivo, non aggiungono molto ai dati ricavabili dalla vita di Bruto o di Plutarco, ricordando un portico di fronte all'omonimo teatro o una sala peristilio nel teatro di Pompeo. Le fonti letterarie, nel complesso, danno un'idea approssimativa dell'interno della Curia probabilmente ricalcato su quello della Curia Ostilia, nell'ambito del foro romano, luogo tradizionale delle riunioni senatorie e non indicano con precisione la sua ubicazione nella Porticus. La Curia, di necessità, va ricercata tuttavia sul lato breve orientale della Porticus, qui in fondo, cioè sul lato opposto al teatro, non conservato purtroppo nella forma urbis severiana, cioè in quella pianta di cui abbiamo visto prima i frammenti in una delle diapositive. In quel luogo, alle spalle dei templi repubblicani B e C di Piazza Argentina, nel 1960 Marchetti Longhi ha identificato la base della nicchia contenente la statua di Pompeo, in un largo podio di tufo. Le dimensioni dell'intero edificio sono state quindi ricostruite in base a questa parte conservatasi. La Curia doveva essere più larga che profonda, aveva 400 metri quadrati di estensione e doveva avere gli scranni, abbiamo detto, sui lati lunghi. L'ambiente era sufficientemente ampio per le riunioni e monumentalizzato come un edificio autonimo. Ben si inquadrava nel complesso pompeiano, edificato, l'abbiamo detto, dal 61 a.C. e inaugurato nel 55, nel giorno del compleanno di Pompeo. Il complesso era costituito oltre che dal teatro da lunghissimi portici. Plinio ricorda, nella sua storia naturale, eccellenti pitture ornamentali del teatro e statue delle 14 nazioni, opera di Coponio, collocate nel propinquo Ecatostilum. Ecatostilum è il nome che davano i latini ad un portico con cento colonne. Il lungo portico che si trovava a nord dell'area pompeiana, di poco più tardo del complesso, perché fu fatto costruire dai lentuli, identificabili con consoli del 57 o del 49 a.C., che erano alleati di Pompei, che lo seguirono a Farsalo, dove fu sconfitto, oppure con consoli omonimi più tardi del 19 a.C. Nell'ambulazio dei portici vi erano alcune numerose statue di etere, di poetesse, di donne illustri della mitologia greca. Alcune iscrizioni sono state rinvenute nell'area e ci conservano addirittura nomi di poetesse o di artisti non conosciuti dalle fonti. Dunque, la curia pompeiana afferiva ad uno splendido complesso costituito da teatro, coronato da templi, e da una straordinaria galleria, la porticus, che era ricchissima di opere d'arte. Anche la sala curiale ospitava, come abbiamo detto, la statua di Pompeo, ma non possiamo dire naturalmente come fosse rappresentato. Vado un poco avanti, ma è un dato interessante quello della statua, perché soltanto di recente, quello della statua di Pompeo della Galleria Spada, soltanto di recente si è potuto capire che la testa e il corpo non appartengono allo stesso monumento e che quindi probabilmente si tratta di una ricostruzione del Cinquecento, quando la statua è stata trovata. Bene, io andrei adesso avanti e passerei all'altro teatro. Andiamo avanti. Ecco, qui intanto in questa planimetria realizzata in occasione della mostra di Augusto delle Scuglierie dell'Equirinale è possibile vedere appunto il teatro di Pompeo, quello di Marcello e quello della cripta Balbi. Naturalmente parlerò in una sequenza che non è cronologica. Abbiamo parlato del teatro di Pompeo, che è certamente il più antico. Adesso farò alcune riflessioni sul teatro della cripta Balbi, che in realtà è il terzo della serie, per poi aggiungere alcune poche cose sul teatro di Marcello. Andiamo avanti. Non conosciamo naturalmente Balbo, cioè Lucio Cornelio Balbo, ma sappiamo che era un alleato di Augusto. Augusto esortò subito dopo la vittoria nei confronti naturalmente di Marco Antonio, l'ultima vittoria che gli diede appunto la possibilità di incamminarsi verso il ruolo che rivestirà poi dal 31 a.C. fino al 14 d.C., esortò cittadini, leggo, cittadini più in vista ad adornare la città secondo la loro ricchezza, sia con monumenti nuovi, sia col restaurare e abbellire quelli già esistenti. Naturalmente Lucio Cornelio Balbo, uno dei fedelissimi, non si fece ripetere due volte la cosa, e con i proventi ricavati dal bottino che aveva ottenuto in Africa, costruì appunto il terzo teatro, che aveva dimensioni più piccole, si dice 11.500 posti, e che fu inaugurato il 13 a.C., l'anno del rientro di Augusto a Roma. C'è una leggenda che dice che l'inaugurazione avvenne con il teatro allagato. Naturalmente lui aveva origini in Spagna, spagnole, a Cadice, dove è stata realizzata questa statua moderna, e aveva naturalmente realizzato in quella città molti monumenti, il porto e probabilmente anche il teatro di cui si conservano alcuni resti. Vediamo la prossima. Questa è la planimetria pubblicata da uno studioso, Gatti, che per primo è riuscito a identificare la localizzazione del teatro, che a lungo era stato considerato invece molto più vicino al Tevere, dove oggi si identifica la presenza del Circo Flaminio. E qui vedete sotto i palazzi, in nero, sono tutti i resti identificati. Qui vedete via delle botteghe oscure, via Caetani e tutti i resti identificati al di sotto dei palazzi e delle cantine. Naturalmente era costituito il monumento da un grande teatro e da un grande portico antistante, appunto la Cripta Balbi, così nota dalle fonti, che si chiudeva con una grande esedra. Vediamo la prossima. I resti si trovano oggi all'interno del Museo della Cripta Balbi, che fa parte appunto del Museo Nazionale Romano, che è, diciamo, uno dei musei forse più interessanti, perché lo abbiamo ricordato prima, il professor Corandini l'ha ricordato, la città di Roma non ha un museo della città, cioè un museo archeologico che racconti la storia della città. Tutti i musei archeologici, e sono tanti a Roma, in tutto sono 144 e ben 25 sono musei archeologici, in tutti i musei si tratta di collezioni di scultura. Questo è l'unico museo dove è possibile trovare i manufatti, cioè gli oggetti che venivano usati nella vita delle persone, e raccoglie collezioni che sono ovviamente state rinvenute in quella zona della Cripta Balbi, il teatro di Balbi e della Cripta Balbi, e anche manufatti rinvenuti altrove, per esempio nell'area dei fori imperiali. Vediamo la prossima. Questo è un modellino che vi dà un'idea delle diverse, è un modellino presente naturalmente nel museo della Cripta Balbi, delle diverse quote, naturalmente quella antica e quella moderna, di via delle botteghe oscure. Andiamo avanti, ancora una visione dall'alto dove è possibile comprendere quello che oggi conosciamo ed è visitabile, cioè appunto i portici della Cripta Balbi all'interno del museo con quella che è l'esedra che lo chiude sul lato meridionale. Ancora avanti. Qui vedete alcune immagini, non le commenterò a lungo perché occorrerebbe raccontare la storia urbana per ciascuna di queste immagini. È l'area dove per moltissimi anni si è stato condotto uno scavo importante di archeologia urbana che ha consentito di ricostruire le fasi di vita dalle origini, dal 13 a.C. e anche in epoca più antica, prima che il teatro fosse costruito. Il teatro è stato ovviamente costruito su terreni espropriati e quindi la vita in quell'area era anche precedente, fino all'epoca tarda. Questa, per esempio, alla vostra destra è una latrina che si è insediata appunto in quell'ambiente ad esedra che chiudeva il quadriportico. Ancora avanti. Questo è un esempio di quello che si può trovare all'interno del museo. I manufatti numerosissimi della vita quotidiana sono esposti appunto in grandi vetrine all'interno del museo. Andiamo avanti. Alcune ricostruzioni del porticato che circondava appunto la cripta Balbi era una cosiddetta porticus duplex, cioè aveva un colonnato centrale al centro del portico che quindi divideva in due navate tutte e tre i lati dell'area libera al centro. Andiamo avanti. Questa è una visione di quello che è avvenuto una ricostruzione ovviamente ideale che è quello che è avvenuto all'interno di questo quadriportico attività di vita quotidiana che è all'origine della denominazione oggi conservata nella via delle botteghe oscure. Cioè evidentemente all'interno di questo cripta Balbi si insediarono diverse attività produttive, forni, vasai e quant'altro che hanno dato poi vita al toponimo moderno via delle botteghe oscure. Andiamo avanti. Ecco ancora una veduta di questi grandi portici che circondavano l'area libera e che furono ovviamente, come tutti i musei di Roma, più volte restaurati. Non dobbiamo immaginare che un monumento costruito nel 13 a.C. è sopravvissuto nelle condizioni originali. Noi abbiamo pochi lacerti originali e molte tracce delle fasi successive di ricostruzione. Ancora avanti. E questa è l'esedra che chiudeva il quadriportico dove si è insediata una latrina nell'epoca più tarda, nel IV secolo. Andiamo avanti. E qui vedete in questo plastico la collocazione del teatro e cripta Balbi. Bene, andiamo al prossimo teatro, al teatro di Marcello. Le poche tracce, questo è ovviamente il teatro di Marcello, nel plastico di Gismondi naturalmente. Vediamo ancora la prossima. Eccolo qua. Allora, io prima di dire due parole sul teatro di Marcello, diciamo che naturalmente non servirebbero perché la lezione del professor Carandini ci ha già dato un quadro complessivo, ma che così possono fornire alcuni piccoli dettagli aggiuntivi. Vorrei mostrare un filmato. Non so se siamo in grado di mandarlo rapidamente. È un filmato che è stato realizzato, e devo ringraziare di avermelo reso visibile, la dottoressa Marilda De Nuccio, che è una funzionaria della nostra sovrintendenza. È un filmato realizzato con un drone, che quindi permette di avere una visione della... lo stiamo attivando, sì... una visione dell'area del teatro di Marcello molto particolare. Vi dirò qualche parola dopo. A presto. A presto. A presto. A presto. A presto. Grazie a tutti. 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 Bene, immagino che alcuni possono anche aver avuto qualche palpitazione per il passaggio di questo drone in mezzo alle colonne, in mezzo agli archi del teatro. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.